cos'è quest'amore che ci unisce e che pur nella distanza ci fa sentire l'unione dei cuori è un filo sottile un filo luminoso un filo che attrae luce e che crea rete una rete che si basa su principi fisici dinamici universali questa rete vibra al di sopra della terra e acquisisce luce a mano a mano che si ingrandisce a mano a mano che si espande e così lo spirito umano ritembra a se stesso attraverso un sentire che decide di aprire la visuale e di avvicinarsi a quello che è la visione di un nuovo mondo popolato da anime in cammino che si riconoscono che riconoscono l'esperienza come qualcosa di importante pur nel sacrificio e negli orrori di questo tempo non perdere di vista la visuale più ampia significa riconoscersi come anime che hanno un tragitto importante con dei significati molto importanti che sono dentro di noi in profondità e questi significati importanti escono solo se gli permettiamo di uscire come fare a identificare questi significati importanti e a portarli nella nostra vita facendo della nostra vita un esempio di capacità di gestire queste nostre emozioni importanti e portarle avanti come baluardo della scelta di vita che vogliamo fare a questo punto c'è un bivio questo bivio rappresenta una scelta dell'essere che decide pur se annebbiato da verità indotte decide di volersi ascoltare di voler sentire di voler dare luce a quegli aspetti dell'etica dell'amore della comprensione del rispetto e della condivisione di valori che sono il cardine il cardine del motivo per cui siamo qua a questo punto della storia ci è richiesto di guardare in faccia i veri significati dell'esistenza cercare di valutare quello che veramente vale a di là della forma cercare di diventare quello che immaginiamo come mondo ideale anche nelle nostre fantasie la frequenza crea la forma il nostro mondo in questo momento è immerso in frequenza che non sono abituali per noi dal centro della galassia si rilevano raggi di luce blu intermittenti che hanno definito raggi gamma ma che non hanno nulla a che fare con la definizione raggi gamma della fisica terrestre i raggi gamma e questo lo dicevamo 12 anni fa che sarebbe successo i raggi gamma di cui parliamo sono associabili frequenze associabili alle più alte manifestazioni della mente che sono la spiritualità il misticismo i nostri sogni i nostri ideali e contengono amore compassione empatia capacità di amare senso critico logica obiettività ma soprattutto un'etica naturale che comprende tutto quello che è la parte più evoluta dell'essere umano la parte più evoluta dell'universo quella che la scienza chiama forza elettrodebole che è come se fosse un un quantum costante che trasporta i veri significati del dell'origine della creazione che sono solamente riassumibili nella parola amore quindi l'amore ha una sua carica straordinaria e crea mondi crea esperienze su questa terra l'esperienza è quella di riconoscersi come esseri con un corpo fisico ma che devono andare oltre la forma quindi un'interiorità riconosciuta una riconnessione col nostro sé superiore con energie che ci parlano d'altro e non solo di materia e quindi riconoscere l'universalità della presenza che è superare quello che è il concetto della materia essendo coscienti del fatto che la materia è un agglomerato di atomi e che è resa possibile da una frequenza lenta quindi evolvendosi o considerando solamente che esistono luoghi in cui la frequenza è diversa è più veloce e più fluida ha un'assonanza all'interno di sé ovviamente questa frequenza crea mondi corrispondenti la mente per come la intendiamo è in realtà tutto ciò che è perché non c'è niente che non sia nella mente nella mente dell'uomo nella mente del nostro pianeta nella mente eterna nella mente universale in tutti questi ologrammi negli ologrammi quindi la nostra vita in questo momento assume caratteristiche materiali pratiche tangibili perché siamo in un'esperienza che richiede questo tipo di agglomerato che è la materia quindi veniamo ad esperire cose legate alla materia con un corredo che ci permetta di concepire la materia quindi 5 sensi però questa è un'esperienza limitata a se stessa che porta lo studente diciamo così ognuno di noi a fare diversi passaggi a procedere in questa ricerca e quindi verrà promosso a un'esperienza successiva che è comunque sempre di conoscenza del sé su livelli sempre più sottili quello che ci è richiesto a questo bivio è decidere da che parte vogliamo stare da una parte attiva la vita che prevede meraviglia che può creare e sentire e condividere quindi la comprensione del vero significato della nostra esistenza una comprensione che possiamo mettere in atto in modo ideale in una situazione come quella in cui stiamo vivendo quindi una situazione di traccollo di tutti i punti di riferimento no perché non sono stati costruiti sull'etica e questa è proprio la misura dell'incompletezza dell'essere umano che non riesce a concepire che la materia senza lo spirito non ha ragione di essere crea distruzione quindi il bivio è questo da una parte la comprensione di questo dall'altra quello che è più comodo quello che ci dà più risultati in termini pratici momentanei dell'oggi la capacità di sentirsi apparentemente più tranquilli per non aver preso una posizione e l'accontentarsi di quello che ovviamente ci viene dato perché possiamo stare zitti tranquilli e fluire nel greggio essere da una parte non essere dall'altra quindi questa prova terrificante che stiamo vivendo questa lotta spirituale tra il bene e il male avrà termine perché i fatti quello che accadrà finalmente metteranno di fronte l'uomo a quello che è una presa di coscienza davanti alla paura l'uomo è costretto a prendere coscienza quando ha davanti un burrone l'uomo si sveglia se è fortunato prima di cadere nel burrone quello che noi dobbiamo decidere è se essere passivi alla vita oppure attivi del cambiamento salvando quello che è il nostro ritmo vitale la nostra libertà di essere di creare di creare di avere prospettive di conoscere di evolverci di usare la nostra emozione per fini di crescita questa crescita che noi ci concediamo a livello energetico ha un suo peso ben determinante ed è per questo che dipende dal fatto che se noi ci fermiamo questa energia di luce perde in intensità quindi il lavoro che ognuno di noi fa su di sé scegliendo l'etica scegliendo la compassione la condivisione il rispetto anche se su fronti diversi crea un'unione che è la stessa della preghiera dell'intento della preghiera la stessa dell'om della richiesta di contatto e il contatto è uno solo in tutte le direzioni quindi essere uomini migliori donne migliori capire questo concetto e applicarlo non è da tutti quindi chi lo sente lo dovrebbe applicare perché dobbiamo aiutare chi invece non lo sente diciamo che questa potrebbe essere considerata come l'ultima chiamata perché siamo proprio sul bordo del diruppo immersi in dinamiche che a volte non ci appartengono presi in un ingranaggio che ovviamente si basa sul ricatto e quindi siamo destabilizzati più siamo destabilizzati più emaniamo energia instabile quindi questa energia crea un'onda che si unisce ad altre onde dello stesso tipo e crea dissonanza sull'altro piatto della bilancia ci sono le persone che si sforzano di ritornare in centro con se stesse si sforzano di fare un lavoro profondo su di sé e questo porta in automatico un'energia di emanazione positiva con degli intenti positivi e questa è una grande forza e quindi siamo in una guerra spirituale tra quelli che non ce la fanno e che aderiscono a modelli prettamente materiali e quelli che invece hanno compreso qualcosa in più e che si si pongono dalla parte della luce della visione diciamo sublime questo è il nostro bibio se deciderai di stare dalla parte della luce allora non dovrai preoccuparti di quello che avviene in questo momento saprai che ogni cosa che avviene è giusta ti affiderai unendoti ad altre anime perché l'unione fa la forza serve tutta la nostra forza di spirito per continuare a dare energia meravigliosa di appartenenza a questo universo che contiene infinite esperienze di vita la morte non esiste la morte è solamente un passaggio un attimo e dovremo cominciare a considerare un altro rapporto con la morte per fare questo bisogna affidarsi bisogna voler sentire bisogna dare spazio a quello che è il contatto che noi abbiamo quell'attimo di contatto quando siamo in circostanze funeste come un funerale in cui c'è indotta una riflessione in quel momento ma la riflessione non è sul cosa c'è dopo se è vero non è vero se lo sento o non lo sento è solamente un'angoscia profonda che ci riporta coi piedi per terra e che ci conferma che un giorno anche noi saremo lì terrificante nel momento in cui non hai un contatto con questa realtà che ti possa permettere di sapere o di intuire o di fermarti a pensare al dopo cosa potrebbe essere il dopo è quello che abbiamo vissuto molte volte ricongiungendoci a realtà che poi abbiamo dimenticato ma in verità siamo sempre tutt'uno con questa realtà è solo che non la vogliamo come dire ascoltare no sono coincidenze quelle che accadono sono per lo più cosa da raccontare perché qualcuno ci creda in realtà chi le vive sa che sono vere sa che questo contatto è reale perché non tutto ciò che si vede è reale ma è molto più reale quello che non si vede quindi di fatto lasciarsi andare a questa visione di insieme cioè comprendere e avere sempre presente il perché siamo qua perché stiamo vivendo questa vita perché siamo in questo momento storico in questa babilonia la grande perché sta accadendo questo ed è chiaro che sta accadendo perché l'umanità è arrivata alla fine di un percorso l'umanità per come la intendiamo per come è stata intesa fino ad oggi su questo piano dove sempre prevalso l'aspetto utilitaristico dall'inizio dei tempi è Caino che ha ucciso bene non il contrario quindi questa realtà si è sviluppata con una forma di potere da sempre che ha condizionato ovviamente tutto il resto adesso questo tipo di gioco viene fermato perché è proprio finito come esperienza perché la nostra terra non ha le condizioni vibrazionali diciamo così per sostenere questo tipo di esperienza non più perché ha cominciato a vibrare in modo più diciamo veloce molto in termini molto semplicistici a causa di interazioni con altri sistemi che hanno frequenze più veloci quindi siamo immersi in frequenze che creeranno altre forme corrispondenti alla velocità con cui si esprimono e non solo quindi di fatto siamo siamo in un mondo che si ostina a voler tenere con le unghie e coi denti quindi una realtà che non appartiene più all'esperienza e quindi questa realtà per estinguersi diciamo così deve passare attraverso delle fasi e ci siamo dentro ci siamo dentro perché cominciamo a renderci conto dell'inganno globale a cui l'umanità è sempre stata sottoposta in un modo o nell'altro e questo inganno globale appare nella sua interezza e chiaramente ha una sua forza quindi va di pari passo con il disfacimento di questo tipo di esperienza quindi apparentemente sembra che tutto vada peggio che che questi che il mondo ancora non molli che vogliono controllare il mondo che ci sono guerre che questo per quell'altro però è una un esaurirsi come dire di questo tipo di potere questo è importante perché comunque la gente comincia ad aprire gli occhi gente che in questi due anni ha fatto una scelta e l'ha fatta per i suoi motivi che non sono sindacabili si sta accorgendo dell'errore quindi di fatto qualcosa non ha funzionato e quel qualcosa è un paletto negli ingranaggi di questo sistema quindi dovremmo stare attenti agli ultimi colpi di coda perché è probabile che cercheranno di spostare l'attenzione su altre cose speriamo che non sia un disastro ecologico ambientale e chiaramente sarebbe il mezzo per riuscire a spostare l'attenzione da quello che è stato da quello che sarà soprattutto il risultato dei loro scellerati atti quindi ci aspettiamo questo credo che siamo comunque alla resa dei conti e che dobbiamo tenere duro e sforzarci di prendere il bivio quello della scelta ecco noi faremo un home collettivo il 22 di febbraio alle ore 22 tutti insieme come sempre ma questo avrà un significato importante il 2 è principio vitale in ogni cosa è il femminile che crea è la lettera bet nell'ebraico bet è casa bet è l'origine di tutti i recipienti dell'albero della vita è casa di dio è la presenza divina è il sentiero della rivelazione della coscienza chiara in se stessa quindi ci riuniamo in questa forma in quest'idea in questo intento e lo mandiamo al cielo perché è questo che siamo capaci di fare attendendo senza aspettare nulla attendendo senza aspettare nulla significa mettendosi in una posizione di attesa perché sentiamo che c'è qualche cosa che si muove ma non cerchiamo di identificare con nulla questa sensazione attendiamo potremmo aggiungere fiduciosi ma non aspettiamo niente perché sappiamo che arriverà non ne conoscerete il giorno né l'ora ma arriverò come un ladro nella notte e solo coloro che sono nelle tenebre verranno colti alla sprovvista grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.